Il Maxi inaugura di Aero Notturno, di Sogni, Incubi e Bessari Immaginari, collettiva curata da Bartolomeo Pietro Marchi con Chiara Bertini e Fanny Borel, visitabile sin al 3 marzo, opere di Bea Bonafini, Thomas Braida, Guglielmo Castelli, John Raffman, Alice Visentin e tanti altri, e un progetto speciale di Giuseppe Stampone, in dialogo con le fotografie di Scanno della collezione Franco e Serena Pomilio, con progetto di allestimento di Benedetto Turcano. La mostra, che omaggia uno dei capolavori letterari nel titolo di Ennio Flaiano, accoglie le opere di 13 artisti internazionali nati nell'ultimo trentennio del secolo scorso, in un percorso che invita ad abitare i sogni, a esplorare gli incubi del presente. Conoscendo la tematica della mostra, quindi diario notturno di incubi, sogni e bestiari immaginari, ha ripreso il linguaggio delle rune e ha giocato con questa intelligenza artificiale per poi creare questa installazione che si chiama Resterai con me per tutta la notte. Come diceva, sono 96.000 tessere che ci riportano anche al pixel, quindi ci ritroviamo immersi in questa installazione di tende, un'opera interattiva e attraversabile, in cui queste 80 sagome di animali sorprendenti ci accoglie e ci regala una proiezione dell'inconscio. Ognuno può rivedere qualcosa che conosce, ma non esattamente, quindi può giocare con la sua immaginazione. All'interno della mostra, il progetto di stampone reinterpreta alcuni luoghi del territorio abruzzesi attraverso disegni su carta e su legno. Le opere sono poste in un dialogo con le fotografie del Borgo di Scanno, provenienti dalla collezione Pomilio, appunto, e realizzata da grandi artisti e fotografi. Questa parte di mostra è il progetto speciale Giuseppe Stampone e le fotografie della collezione Franco e Serena Pomilio di Scanno. Artisti e fotografi come Gianni Berengo Gardin, Hilde Lotzbauer, che è stata la prima a recarsi a Scanno, Mario Giacomelli, Ferdinando Scianna, Mimmo Iodice, hanno immortalato il nostro Borgo di Scanno, sia per la sua peculiarità morfologica, ma anche per gli usi e le tradizioni della comunità locale. Giuseppe Stampone ne ha colto alcuni elementi e li ha inseriti all'interno delle sue opere in una reinterpretazione di questo lavoro.